salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la cento ventunesima puntata della serie italia siamo qui ritornati con questioni biogas eravamo rimasti con i rimorchio pieno e dovevamo andare a iniziare a scaricarlo nei digestori del nuovo impianto allora quale portiamo a quello che vuoi te ma scarichiamo dentro direttamente con l'alato cosa dice a fare con l'alato dall'alato che questo è l'imbalchio qua a prendere di l'ho messo perché non sapere di lele questo è cattivo e io dalle te occhio tu fai le danno ti dà butta un occhio che adesso qua vedremo le poter leggere il piatto nuovo sapere io il pianeto e mindrio nel tempo deve essere veloce 9 del tempo mamma cario vieni indietro la colla 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 posso oggi che tu gratta cosa che casino dove hai gratato il tappetino qua eccola 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 un pochettino mamma mia che c'è una pendenza qua eh nooo ma che non vuoi fare che sei troppo pendenza aveva detto fermo non andare indietro come salame fermo a posto guarda che c'è anche guarda che più di così non va e tu essere arrivato addosso il digestore ok allora basta la moda di esattura scaricale a amo a guarda che bello quanto materiale o bellissimo brazzo al letto di queste le pompe che è una cosina potete fare io dovete avere bisogno di 80.000 litri o la ora che è già ora che è già pieno qua e ma ce l'è già pieno no 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 c'è anche altro ma ce l'è pieno no si era fermato forse era andata e si ferma non poter essere per te controllo qua su tablet allora vediamo un secondo tu essere più o meno a metà perché si ferma allora ah no era capito perché non scarica più di così è a fondo a me segnale che è oltre la metà ora si ah se la male forse prima vi aveva qualche problema eh si finchè non riceve che inizia eh si esatto eh ma sei a metà perché c'è l'altro l'altro digestore ah no l'altro lo SL0 c'è però devo aspettare un attimo prima di scarica un poche percentuali alla volta eh ve l'ho notato cosa è un po' strana chiamarlo l'assistenza appena aveva il tempo eh si eh qui dobbiamo chiamare Giovanni subito che non ci sia qualche parametro da andare a correggere eh esatto si per essere il primo avvio quindi forse aveva qualche lunita buona però comunque qua io avrei bisogno di più litri più litri e ci vuole un altro rimorchio allora allora tu prendi il rimorchio dai su ma tu tu lascia qui questo togli via trattola e vai a prendere qualcosa o se no chiamare qualcuno no prestami la macchina che vado a casa eh si tu ricordare cosa aveva fatto l'ultima volta no allora tu avevi preso piccione cacca di piccione allora piccione e cacca di piccione non è colpa mia tu avevi preso però sotto piccione ma è lui che ha fatto kamikaze eh ma tu corre l'ecomacchina mia tu avevi fatto casino eh io ero 250 allora e un piccione si è schiantato ecco si eh il povero piccione tu nel 250 il piccione ve l'ha fatto plof esatto e difatti si è schiantato piccione più ha cacato sul vetro ecco perchè sai nel 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 momento dell'urto e si vede che si sono spremute le budella e abbi si allora va bene eh tanto sapere che buttare via macchina ma in tra poco eh tu lascia il mio contratore io ti riempio tutto quanto e dopo tu prendi via macchina vai a fare quello che devi fare porto subito il limonchio me la comando buona allora leviniamo dove è la macchina aspetta che prendo pala allora la mia macchina essere vicino a come tu chiamare gabbioto di licalica di colente o di metana sono ricordi la parte vecchia ah una parte nuova messa qua fianco la parte nuova eh qua qua belmo qui è la macchina ah della 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 e perchè essere comodo al metro più gas di vero certo per l'elettro basta mi sono stupato l'ottoballe essere lento dopo e appena tu spostare un secondo palla buttare fuori i pulici e chiusa dammi le chiavi anche due scatole che sei screanzato un attimo ci ho permesso di entrare su macchina secondo aspetta dove capito buona per cavolo e non trovate le chiavi di macchina certo ce le ho già io ma ma dove ne hai fatto fregare le chiavi eeeh ambarcalabra dai che vado a vedere se è arrivato il limonchio va bene a top che ne avevo ordinato uno allora andiamo a casa anzi passiamo a vedere se è arrivato il limonchio se è arrivato andiamo a casa a prendere il trattore eeeh e dopo c'era chiamiamo giù anche un operaio che così andiamo avanti indietro in due e travasiamo un po' le trincee dal vecchio impianto al nuovo allora dov'è qua qua in negozio qua non c'è nessuno c'è cipria però ancora qua è cipria oi c'è nessuno qua guarda oh guarda ma se pare normale che non c'è nessuno guarda che affari eh signore vabbè aspettiamo qua un attimo se per caso sono andati via da poco eeeh che ora sei qua mamma mia guarda guarda un botto è messo a passare signore qua non c'è nessuno ma non c'è possibile guarda lì guarda lì ooooh dove vai con il caricafine che è il mio che è il mio ma chi sei qua ma che orari feto eeeh un botto è messo tu sei no oggi è un botto è 32 eh e il tempo della strada no è il tempo della strada se arriva qua ha messo giorno un minuto non c'era nessuno a forza gli animo da te i carichi uomini e nino signore giuri vai rimorchio oh cianino è la questo ma che roba sia questa qua ho saputo che faccia con questa roba qua no questo questo qua è per l'arba devi guardare questo giriti ma con cosa sei trovato? eh? con cosa sei qua? con mercedes eeeh tu hai fatto soldi? tu hai fatto soldi? tu hai visto cosa hai su mercedes? no in realtà sono venuto a vedere se per caso te lo avevi perchè eeeh non volevo fare i giri per niente con il trattore eh eeeh allora intanto sono venuto a vedere eeeh adesso adesso avevo visto eeeh scarica prepara eeeh che mi arrivo eeeh firma il segno prima però guardando che attacco sul trattore che vedo che funziona vabbè 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 questo è un rumore dentro qua ah qualsiasi porti via il cattorcio la grigio? cattorcio grigio eeeh dopo ma che sia dopo se no mio traffico no no è nuovo donino eeeh andiamo andiamo in farm prendiamo il trattore torniamo qua come vedete stiamo vendendo il latte delle vacche abbiamo già questo è già il secondo giro di vendite abbiamo Davide che sta portando via il latte avevamo fatto un po' di accumulo tra i vari lavori non abbiamo più guardato tanto gli animali mamma mia ma che sia la pulizia guarda signor perfetto allora vediamo il prendere guarda che busa è il Deus eccolo qua la o dunque forse anche il moto serviva davide forse chi è qua marco eeeh ora che devo portare ora ah ciao tizi eeeh bene bene guarda qua guarda che roba mamma mia cosa hai fatto qua cosa hai fatto sepolto no sepolto niente eeeh io avevo fatto guarda ioanni Artemio tutte le casette là io avevo fatto dei lavori e poi ho spaccato qua i moff eeeh e poi ho scavato e ho fatto e ho fatto e ho fatto c'è una canta vabbè guarda dovrei abbastare quella che ho sola che non ho 50 guida più o meno siiii vediamo eh giusto giusto mi sa ti porti fuori tu meno eh però c'è distante è stato dove arriva si 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 eh eh scarica spiana eeeh eeeh e a posto ah buono aspetta che ho sposto il trattore che non arriva eh eh cercavo davide dove c'era eh ho visto uno con il trattore con una botte si Walter no dai eh Walter qua sento nomi dei stagisti tosati e non mi capisco neanche capire ormai boh vabbè eeeh se te lo vedi eeeh che magari c'è ancora qua dire che vieni il biogas qua macchina del cinese eeeh mi sa che mi tocca andare in un'altra via io sento eh si vedo qua eh si 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 in voi qua anche un'altra via perchè fare piuttosto una scanta di eeeh che dopo passando quelle macchine grasse qua grosse grasse grosse eeeh esatto esatto grasse grosse esaurate eeeh eeeh ah no Davide e lei Davide eeeh prima ascolta eeeh avrei bisogno cheeeh venissi il biogas dal cinese ok eeeh ti prendi la sua macchina ok e che dopo lì c'è già un trattore che mi dai una mano ok va bene tanto puoi parcheggiare qua eh si fermo qua vado un po' più avanti qua e fermo si con il latte con il latte hai finito? no ci sono ancora 5 o 6 viaggi mamma mia eeeh dove dai li fai stasera? eh si mi devo caricare vai vai ti viene dentro pure il cancello è aperto a posto lasciami passare vai che ti pianti si si vai per te ti rimanda vai asciera tua voglia tutti scalmanati sempre sta entrata piccola mamma mamma aspetta aspetta che mo andare da da arte mio hola oh è arrivato finalmente eccomi qua guarda 10 minuti di orologio ehi ecco un laser oh guarda che bene 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 si si cosa sia da 60 66 quintali più o meno 66 metri cubi aspetta 66 quintali 66 quintali 66 quintali se il mio rimorchio che ho casa del ligno e ora le 66 metri cubi ah è ok bom 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 bellissimo 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 elettronix e ciò pensi che mi sa dire eh gatto mamma come ti sei messo qui via addirittura se ho mother regulation eh si easy bus e ciò tutto quanto bene 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 flaniaria bene gardano ah gardano ok e oro dai chiudilo per un attimo aia e cosa avevo visto ma adesso si è tagliato maledetti cortelli aia ma chi è che ha urlato edino ma dov'è no in ufficina ah beh si è tagliato la martellà no ho dovuto montare i cortelli sul salgio a carica speriamo ah era il murchetto di prima eh si ricordati cipria no eeeh beh adesso vai intanto agganciamelo dai che non voglio scendere anche qua mi devo fare dai dai ah si via in basso un attimo no no via in basso dai aggancia adesso via in basso se no il murchio sta qua ah signore cosa cos'è eh firma la segno grazie no prima lo aggancio e lo provo no 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 eeeh ti te firmo aggancio e dopo te non funziona cosa facciamo via in galassia mmm e anche devi fare passaggio immediato eh di scale cioè in black tipo ah in black ma quanto inserisci questo eeeh 60.000 euro no io le mie acquisti gli accordi no così te l'ho scritto su a boe mmm eeeh 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 e devo ricontrarmi eeeh deve fregarmi eh ah si scusa eeeh eeeh dito che mi ricordavomi eeeh deve fregarmi 5000 euro eeeh 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 vabbè allora eeeh 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 trasferisci posto vabbè nei postavoto sono eeeh 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 i stersanti funzionano a posto ho già000 ah scarica è la vola scarica dai pagano nel lato l'odio e io qui qui anche altro ragazzo davide eeeh eeeh si metti la sotto le tettoie guarda vai dall'altra parte del biogas e prendi la stradina no di là di qua di qua devi andare ah ok fai il giro delle cupole tieni la sinistra c'è l'altro trattore ok allora ma come vedo un po' avanti se non riesco a prendere l'imolchio oh la perfetto detto poco non andando avanti su te lincea vado al mulo e ne abbiamo altri due ancora piene mai toccate certo ah beh e avevo detto io che questo biogasso è troppo lento mamma mia l'altro aveva provato aveva ancora problemi quindi non saperle intanto scarico quello che posso va bene dai dopo avverranno sistemarlo si si certo chiamare l'assistenza e direi muovete i sedeli devo fare produzione ma ce l'è pieno? si? no? no 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 eh 85% ancora eh attraverso questo è un po' casino rosale non so perché tanto prende poco prende non lancia eh devi regolare bene il rullo davanti ho visto è abbastanza fondamentale ecco ho trovato il comando perfetto oh la facciamo se prenderle bene ecco vieni un po' avanti oh bravo farei senza pensare l'insilato buono grazie oh mamma mia eh se deve salire l'atto buono per il biogasso poi andare male cosa è bella il tuo attrezzo che andare così da cani eh tu provare ad andare lì 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 lì! aspetta felicità è ancora buona grazie eh Marco là no così guardate questo animale è dopo bisogna entrare in retromarcia qua è ma va bisogna fare subito no dalle adesso così come zinga lì dai 98 per cento è nati può prendere male questo attrezzo guardate perché fa così schifo tutto qua fare schifo fanno da 9 schifo biogazza tutto schifezza quattro legno c'è no e andiamo a scaricare aspetta che adesso andare lì e vedere come se le messe il trattore perché avete fatto bravo con la nata scaricato ma non prende tanto ecco la tua fede presi intanto trincea grazie è stretto qua è trover preso anche quattro azzi fai tanto sbalone esizio celebravo capo prende il mulo prendi trincea prendi tutto adesso tu piano non fa le manovre troppo strane vabbè adesso con il dooper 6 da dio si va in retro aveva fatto provati con la nata è stato molto complicato è sempre tornare sul secondo tlamoggia prima è sempre a posto più o meno eh c'è una bella pendenza guarda qui invece come funzionale prende bene o prende tratti qui è partito bene adesso è da vedere se si ferma prima o dopo durante o quello che è a posto ho fatto tutto lì malchio? si oh interessante allora vedi oh qua dove se ne è quasi pieno però quello di là rompe un po' le scatole eh se qualche sensore molto probabilmente eh tanto se devo controllare una tepida facile facile va bene intanto qui siamo partiti e andiamo avanti a fare qualche viaggio allora e si fai tranquillo a continuo buona adesso torno di là con il tuo piccolo John